...per Crespo, il pallone attenzione a Crespo, entra in area, Crespo può girarsi, tiro di Crespo, rete! 1-0, Hernan Crespo. C'è per i Malzini, Parma e Piacente danno vita a un derby emiliano molto combattuto. 32 secondi e il Parma in vantaggio, Crespo approfitta di un errore di Delicarri e di sinistro batte Serrini. Molto atteso Crespo che vediamo giustamente sul carre, è subito una partenza straordinaria per l'argentino che vediamo che nel replay resistere al ritorno di virtù e battere il portiere del Piacente. E al ventinovesimo, a sorpresa però, arriva il 2-0. E' sentito che su corner Fremaria può battere di testa indisturbato il portiere Serrini. Ne approfitta molto bene Scienza con questo destro che non lascia tanto a Buffon. Si impenna Strada, Strada, le di rigore, mette al centro, Strada, Crespo, rete! 3-1, gran merito a Strada, una doppietta di Crespo. Strada controlla bene il lancio di Chiesa, mette al centro e Crespo di destro non lascia campo a Serrini. La doppietta e l'abbraccio tra Strada e Crespo. E rivediamo anche in questo replay la facile conclusione del centroavanti argentino. Grazie.